Non delle migliori, ora noi continuiamo a scegliere la soluzione di mettere un piede lungo, portare il loro metà campo e poi andare a costruire la linea, loro vanno dritti senza nessun problema. Prova qui dalla stretta, è l'apertura che allarga per Schinin, Schinin attenzione Schinin in banderina e c'è la meta. Molto bene.